Un bene storico e architettonico della nostra città che compie 90 anni e sul quale l'amministrazione ha deciso di intervenire, oltre che per valorizzarne il pregio, per renderlo più sicuro e meglio fruibile a vantaggio dei nostri bambini che qui frequentano la scuola primaria Rodari. Il sindaco Federico Binatti e il consigliere incaricato per i lavori pubblici Mauro Bricco presentano con queste parole gli interventi di adeguamento sismico che riguardano lo storico edificio. News 24, la tua nuova tv locale.